O, oh! Oh, oh, eh, eh! Oh, oh, oh! Di speciale! Infatti che steppana! Buongiorno a tutti ragazzi qui è Runfire dalla vostra Runfire Family magari vorrei essere Runfire però non lo sono e siamo qui per pullare su Gohan Beast E per non trovarlo Tanto sono sicuro che non lo trovo Perché E qui possiamo notare Vabbè Gohan Beast Trunks che non ho Cell che non ho Gohan che non ho Questo ce l'ho Questo lo voglio trovare Questo lo voglio trovare Piccolo Forte da quel che ho visto Pan Gamma 1 ce l'ho una stella Gamma 2 non ce l'ho E questi sono i personaggi All'incirca nuovi Iniziamo Da quella 500 perché da quella 300 Ce l'ho shaftato 517000 cc Hanno messo anche un'ambientazione nuova Che dovrebbe essere il ghiacciaio in pratica Però penso di Non trovare C'è lo verde 5 pod Cioè non sono abituato a queste animazioni qua Dove vedo le 5 porti Di solito sono abituata da 1 Dalle 0 alle 1 pod Pool rosso addirittura E Goku pareggia Perché è scemo Cioè potrebbe Trasformarsi in Super Saiyan 5 Ma Pareggia Va bene Una merda Una merda Una merda Una merda E E c'è Lo schifo Manco una Una SP C'è tutte hero Un extreme Cosa me ne faccio io Fa schifo Fa schifo Vai Vai da quella del 700 E Bellissimo 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 Guarda Bellissimo Un altro cielo verde Ma salta Il posto dei 5 pod 3 Pool Sempre rosso Sempre che Non si trasforma Perché E sempre C'è Terzo No No Va bene Oh E Jaco Bellissimo Extreme Super baby 2 Che muoce Usciranno i monkey boys Quindi molto utile Eppure qua Una mezza Cioè Non una mezza Una chiavica Una chiavica E Passiamo alla prossima Da Extreme Garantito Oh Cioè Si Si trasforma Cioè Non vuol dire niente Che si trasforma Però si trasforma Pia pure le botte Quindi Doppia scimitaggine Pool rosso Una bella No Ma come pareggio Ma c'è C'è Tao Ma c'era Tao Che era SP Ma c'era Tao Tao Ma che cavolo Combini Tao Qua la spark In cece Tao Che se P Oh No non so capire Ah Eccola Qua siamo proprio A livelli First From Freeza Portato a 6 stelle Questo zengai Domani Domani Ci fanno lo zengai Hanno detto Infatti Ah ma quanti personaggi Sono bussati Tutti extreme Tutti una merda Vabbè ma il pezzo forte Cioè Rimango l'animazione Perché Milione 185 Di questi tempi Non se ne trovano Di questi tempi non se ne trovano No Davo da spazio Stavolta non c'è Tao Quindi Ash parking Non c'è Ma non potresti Stavolta Gogo che dà le botte a Freezer Strano Pull Bianco Si tras... Eh ma ma Poverello Freeza Che sta proprio a dire Gogo Gogo per favore Ci mette Non ce faccio più Cioè Ho preso proprio un attacco di cuore Allucinante Lagga Sparking Gamma 1 Eh Eh L'ho azzeccato eh L'ho azzeccato Comunque il no skip Non ci interessa perché Cioè Se LF One Me ne mancano 4 Su 6 Sparking Un altro gamma 1 No top Schifo Fake out Fake out Gamma Eh Trunks Eh Oh Terzo Bojack Non lo vedo Cioè Non lo trovo dal 2018 Bojack Non lo trovo dal 2018 Però mi va 4 stelle Gamma 1 Onesto 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 On Bellissimo Augma 2 però non ce l'ho eh Free 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 Butter free Sassuna Sassuna E siamo ritornati allo schifo Ma un ghiacciaio Un cielo rosso La nuova animazione eh Che poi era da due anni che non ricevavamo Non ricevavamo una nuova animazione Goku vince Quindi la SP è garantita Potrebbe essere anche Gohan viste eh 0,5% Eh Che sarebbe Il Non il 5 Il 2,5% A Sparking Eh eh No c'è lo skip Gohan C'è lo skip Gamma 1 No Super Saiyan Goku Ma c'è No Ma come erano 10 Le ho contati 3 Forse perché l'ero non le ho contate Ecco perché Qua non sto a trovare niente Sto primo giro è andato una mezza chiavica Ma sicuro che i rate sono giusti C'è Ho trovato una mezza chiavica A parte che potrei prendere il tichettino però No Penso di farmi un altro giro e poi Basta C'è non voglio spendere troppo tra un po' C'è C'è l'anniversario C'è no l'anniversario C'è il dual fest Io non voglio spendere troppo Almeno un p Davvero C'è Abbiamo trovato due spazi Il resto è cielo verde Però full blue quindi sparking C'è blu Full dorado quindi sparking garantita La vedo male 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 Eh niente Giren 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 Che mi ha uno plus Via sto shafta come sto shafta con Goku Mastred C'è no qua non posso farlo vedere Zero pod Ah due sparking Zero pod Due sparking Ma mi sembra giusto Qua i rate Sono tutti sballati Cooler Quello è l'f però eh Mi raccomando Ok C'è lo verde Si trasforma Non ho visto neanche quante pod c'erano Probabilmente tre Pool rosso come al solito Vince Cioè mi sta dando Cielo verde SP garantita Cielo verde SP garantita Cielo verde SP garantita Questo è Nato top Perfetto La molte Cioè è già data Visto C'era solo top E basta E basta Cioè Gli ultimi due su Cioè Ho trovato piccolo Panno Nessuno Basta però Basta 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 Adesso devo fare Il rito magico Mettiamo su google Qui sul mio bello schermo Allora Cerchiamo Toshi Ecco Così magari Vede che Che è il suo creatore Perché c'è scritto automatico Toshiba Vediamo un po' La free È il rito magico Che fanno tutti E alla fine Non vedrò Niente Questa è la seconda volta Che mi esce Una Trunks animation In due anni Che gioco Dragon Ball Legends Due anni Potrebbe Allora Io non ho No Non ce la No Non ce la faccio Non ce la faccio Ma come Ce l'ho scritto Ok Mi salvo Mi salvo Mi salvo E Mi potevi dare Gombist Non è finita Potrebbe Potrebbe essere Un'altra Un'altra pan No Bojack Che schifo però Cioè mi dare Ma per pan Che è pure gratis Pure gratis Vabbè Showcase di pan Ci sta eh Beh Ultima da 500 E poi vado A etichettini C'è lo rosso Tao Si cambia un po' Magari mi da pure Una bardak animation Che No Ma magari mi da Una brawl animation Che non la vedo Da Da marzo Penso Una brawl animation No Freezerá infartato Col cuore Che non so manco Se ce l'hanno Le lucertole Le cuore Dove Sé più garantita Oddio No Ma 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 Pa 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 Ho trovato sia piccolo Land Ci sono certi Che trovano Gombist Tre volte E ne hanno trovato Ne piccolo Ne pan Io trovo Questi due E non Gombist Però li ho trovati L'importante è quello Vabbè ma devo prendere I tettini mica le spendo 50.000 Crono Eh 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 Tata 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 E e Due Due Ma chi è che Sprega 50 così per Panno piccolo No posso tranquillamente tornare indietro Sto facendo questa cosa Ci manda vodka E si scoprì che non stavo neanche registrando Io credo Nel cuore delle carte E Yu-Gi-Oh! mi ha sempre insegnato Che credere nel cuore delle carte Significa trovare Gon Beast 100% si è bloccato il gioco Bello sto Gon Beast Non lo faccio manco vedere Magari copro pure a schermo il personaggio Eeeh Mi va sette rosse Finalmente Qui Questo L'ultima chance L'ultima chance Per poter trovare Gon Beast nie Toshio mi sa che Mi sta proprio Mi sta guardando La gate di camera Che sta a ridere No non fa a ridere Grazie a tutti Io non parlo Non parlo Io non parlo Oh Meglio se sto zitto È come un ghiacciaio Non è nulla di speciale Infatti che ste palla No 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 Oh 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 Sì 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 Ho fatto bene A farmene un'altra Ho fatto bene Pure Pure Ho fatto benissimo Tutti e tre i personaggi Visto ho fatto bene A starmene zitto E questo mi fa 5 stelle Perché ho pure La multi z power da 100 Devo Come si fa Devo tenere premuto Ah ecco Bellissimo Bello 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 E niente Questo video Termina qua Lo scioghesso Non so se farlo Oppure no Però ho trovato tutti e tre i personaggi In modo equilibrato Quindi Ad un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.